Bentornati nel nostro spazio settimanale dedicato alle riflessioni e alla ricerca di quei messaggi di speranza, anche consigli che ci possono aiutare ad affrontare la vita di tutti i giorni in compagnia di fratello Francesco Zambotti, sacerdote. Bentrovato. Bentrovati a tutti voi. Oggi siamo in un posto molto particolare, dove ci troviamo? Ci troviamo in un silos. Io penso che un po' tutti sappiano che cosa sia un silos. Stavo per essere abbattuto, in quanto oggi non serve più per porre alimenti per i bestiame, eccetera. E qui stavano per abbatterlo, ho avuto subito l'idea di fare qualcosa. E infatti abbiamo insieme con dei volontari, con delle persone, con tanti sacrifici, anche siamo riusciti a fare un luogo di contemplazione. C'è un piano terra, un secondo piano dove è un abitativo, dove si può anche dormire per 4-5 persone. E poi dove ci troviamo, che è la stanza per elezione, la stanza di contemplazione. Quindi qui sono vietati i telefonini, per esempio. E quindi qui ci poniamo in un'attenzione profonda, in un rapporto con Dio. E quindi il silenzio è d'obbligo. Quindi o da soli o in piccoli gruppi si può sempre fare questa esperienza quasi eremitica. E quindi siamo in mezzo alla campagna, i rumori non ci sono quasi mai. E quindi anche perché questo silenzio è co-inventato sia all'interno che all'esterno. E quindi il silenzio domina assolutamente. Quindi ci troviamo proprio in questo silenzio che serve per dare spazio a chi desidera disintossicarsi della vita materiale, televisioni e tante altre cose. Nel senso che a volte entrano un po', spadroneggiano nelle nostre case. O comunque siamo noi che difficilmente riusciamo anche a gestire questa cosa che è anche bella e positiva. E trovare invece degli spazi interiori dentro di noi perché non possiamo dimenticarci di vivere né possiamo dimenticarci che noi esistiamo. Da un po' di tempo mi viene in mente sempre questo pensiero, l'esistere, accorgersi di esistere, è qualcosa di straordinario, di bello. Come potremmo pensare di non esistere, esistendo? Eppure ci sono delle persone che cancellano la loro vita nell'alcol, nella droga, e in altre realtà molto negative affogano nel mutismo, nelle solitudini e non sanno ritrovare se stesse. Questo luogo così particolare si trova vicino a una delle tende di padre Francesco, tenda 3, quella che si chiama Casa Paola. Quindi per molti c'è la possibilità di fare questa esperienza. Sì, ci sono stati e ci sono tuttora qualche gruppetto che chiede di venire qui e di fare questa esperienza di silenzio. Naturalmente è un'esperienza molto dura perché devi passare attraverso una solitudine personale che a volte fa paura, non a me certamente perché sono un po' abituato, ma a tante persone questa solitudine diventa un po' difficile da superare, in quanto poi superata questa solitudine si entra in un'altra solitudine positiva che è il contatto con Dio. Noi che siamo eccessivamente razionali incominciamo a dire ma come mai, perché, e poi, e se, eccetera. E allora questi interrogativi eccessivi diventano un impegno da assolvere. Bisogna comunque avere la fiducia e avere anche il coraggio di dire faccio questa esperienza. In silenzio. E proprio il silenzio ci aiuta a introdurre quello che è uno degli scritti che andremo a leggere insieme di Padre Francesco, una delle sue poesie, delle sue preghiere, che lo ricordiamo sempre. Quando arrivano devono essere messe nero su bianco. Certo, sì. Sono momenti di preghiera di cui talvolta non mi rendo conto nemmeno io di quello che assaporo dentro di me e poi, dovendo mettere su un pezzo di carta questa esperienza, mi rendo poi conto completamente di quello che è avvenuto dentro di me. Ecco, quindi è un dono del Signore, io non c'entro quasi niente, e quindi però credo che servano. Le vorrei tenere tutte per me, però talvolta quando riesco a capire che le persone possono accogliere, capirle, o possono fare addirittura del bene a loro, allora le offro a delle persone perché così è giusto. Grazie. Noi oggi ne leggiamo una insieme. Le labbra del cuore sono in preghiera mute e lo spirito le esalta nell'armonia di comunione, collegamento di amore, angolo di eternità. Eh sì, le labbra del cuore sono momenti di espressione interiore, muta, dove la preghiera, più che essere un qualcosa che si fa, è qualcosa che si riceve. Per cui in un primo momento siamo noi a pregare, a raccontare al Signore qualcosa, o dire una preghiera, un Ave Maria, un Padre Nostro, eccetera. Poi in realtà è Dio che prega dentro di noi, per cui le parole diventano un disturbo, e quindi è giusto che le labbra del cuore siano mute, non parlino più, perché si è entrate allora in un'altra stanza. Ed è lo spirito allora che esalta queste labbra, che sono mute però, le esalta e creano un'armonia di comunione, un'armonia di comunione con Dio, perché noi essendo strumenti dello Spirito possiamo effettivamente accogliere attraverso la grazia, attraverso una benevolenza da parte di Dio, possiamo effettivamente accogliere un'armonia straordinaria, molto bella, che c'è dentro di noi e che a volte non c'è perché non ci accorgiamo che esista e quindi non la si mette in funzione. E questa comunione allora diventa un collegamento di amore e determina un angolo di eternità, cioè entriamo in una forma, vorrei dire, una parola grossa di estasi intesa nel senso che predomina lo spirito a quello che è invece il fisico, la carne e quindi si entra in una dimensione troppo bella, troppo grande e quindi è là che noi troviamo una pacificazione dello Spirito. Come possiamo salutarci oggi? Con quale messaggio da questo luogo così particolare? Io direi che trovare il modo nuovo di pregare vuol dire trovare se stessi, riscoprire i doni che il Signore mette dentro di noi, perché a volte ci sono dei doni in tutte le persone, anche in quelle che sono contro la vita, proprio forse perché non hanno mai saputo incontrare il dono di Dio e la vita dentro di se stessi. Grazie, ringraziamo fratello Francesco Zambotti, sacerdote, grazie a tutti voi per averci seguito e arrivederci. Grazie a tutti.